Da oggi sarà più agevole per chi ne ha diritto entrare o uscire dalla Sicilia. Vengono infatti potenziati i voli da Palermo e Catania per Roma e viceversa e aumentate le corse dei traghetti sullo stretto di Messina. Inoltre il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio è inserito tra le cause di necessità che consentono quindi lo spostamento. E questo è il risultato della richiesta avanzata dal governatore dell'isola Nello Musumeci e ai ministri dei trasporti e della salute Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato nella tarda serata di ieri. I voli giornalieri dalla Sicilia verso Roma passano da 4 a 8, 4 di mattina e 4 di pomeriggio così come i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria che da 5 diventano 8, orario dalle 6 alle 21 in ogni direzione. Non cambiano invece le prescrizioni adottate già dalla regione alle quali si devono attenere coloro che ritornano nell'isola. Registrazione sul portale web dedicato dell'assessorato alla salute obbligo di isolamento in quarantena e sotto posizione al termine del periodo al tampone. Per quanto riguarda gli approdi a Messina, i controlli sanitari sui passeggeri in transito continueranno a essere assicurati dalla regione mentre per gli aeroporti di Palermo e Catania continuerà a occuparsi nell'USMAF. Ringrazio i ministri De Micheli e Speranza, sottolinea il governatore Musumeci, per aver accolto con celerità la nostra richiesta. Una modifica che si è resa necessaria per far fronte al considerevole aumento di traffico a seguito dell'avvio della fase 2. Non è stato facile trovare un punto di equilibrio per coniugare da una parte le esigenze affettive e dall'altra la prudenza e la caudela d'obbligo per evitare che chi entra in Sicilia possa essere, senza saperlo, portatore del virus. Speriamo di esserci riusciti.